Andiamo a parlare di droni, è un settore, quello dei droni in espansione e il Drone Expo di Roma è stata l'occasione per far incontrare curiosi, addetti ai lavori e per capire anche qual è la strada migliore per lo sviluppo di questo settore. Il servizio è di Matteo Parlato. Siamo a Roma Drone, c'è un grande successo di pubblico per vedere queste macchine volanti, ma tutto questo è moda o sarà veramente un volano economico e tecnologico per il nostro paese? I droni sono già una moda e sono già una realtà economica, lo vediamo oggi qui a Roma Drone con la presenza di numerosi operatori di università e di operatori elicotteristici già affermati. Quello che però è importante per non far spegnere sul nascere questa nuova industria e soprattutto non impedire che le industrie italiane possano lanciarsi in questo nuovo mercato è lo sforzo del regolatore. Il regolatore deve semplificare, deve fare in modo che la burocrazia non uccida sul nascere questa nuova industria che può essere una nuova industria italiana. Droni come i cellulari? Forse anche di più come i cellulari, come i pc, probabilmente noi abbiamo in tasca tutti un cellulare e utilizziamo tutti il pc, forse non utilizzeremo tutti un piccolo drone ma molti saranno i servizi che nel nostro futuro vedremo asserviti a queste macchine volanti e ci sta per iniziare una nuova grande pagina della storia dell'aviazione. Un drone così quanta autonomia ha? Allora dipende dal carico che porta, chiaramente con un carico minore di un chilo siamo sui 20 minuti, con un carico di una reflex di alta fascia siamo sui 9 minuti circa. Oggi il punto debole dei droni sono le batterie, ma i risultati raggiunti in questo settore per apparecchi come cellulari o tablet sono motivo di ragionevole ottimismo sulle future prestazioni di queste macchine volanti. Guarda voi ribalzo!